Ciao a tutti, perché il silenzio riporta indietro il tuo ex? In questo video voglio spiegarti perché il silenzio riporta indietro il tuo ex. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo inoltre che sul canale ti puoi abbonare, abbonando ti potrai scegliere diversi livelli di abbonamento, abbonamenti base per dare un sostegno al canale, abbonamento top, abbonamento seminario online per partecipare al mio seminario online che faccio mensilmente. Ma adesso veniamo al tema, perché il silenzio riporta indietro il tuo ex? Allora, se tu vuoi ottenere dei risultati, se tu vuoi riavere indietro il tuo ex, se sei appena andato, o anche interessare qualcuno, quello che tu devi fare è iniziare a fare silenzio. Sembra strano, ma il silenzio stampa è uno dei modi più efficaci per ritrovare l'amore. Diciamo, si basa sul dubbio, sul mistero, sull'ignorare, che è la tecnica più forte per far reagire un essere umano. Ignorare qualcuno genera più reattività delle critiche. Gli esseri umani, quando si sentono ignorati, anche se ti ignora uno di cui ti sei allontanato, ad esempio, il tuo ex in questo caso, anche se succede questo, comunque si sentono impotenti, si sentono inutili. E quando il tuo ex si allontana, tu prendi le distanze e te ne fotti fondamentalmente, te ne freghi totalmente dell'ex, beh, generi uno stato molto interessante, generi uno stato molto interessante di che cosa? Beh, fai sentire l'ex, fai sentire l'altra persona come inutile, come se gli venisse il dubbio, ma forse non mi ha mai amato, forse non mi ha mai desiderato, forse non sono stato mai importante per lei. L'obiettivo è quello di creare il dubbio, perché il dubbio, posso garantirti, che seduce, lo seduce totalmente. Genera comunque ogni volta che noi esseri umani, questo è un altro concetto fondamentale, abbiamo una gestalt, cioè una forma, un qualcosa, di aperto, di non chiuso, sentiamo l'esigenza di chiuderlo, sentiamo l'esigenza di accertare. Pensa ad esempio, non lo so, se tu esci di casa e non sai, sei dimenticato il rubinetto dell'acqua aperto, quanto è forte la voglia di, tanto quanto i pensieri si direzionano su sto rubinetto, sarà aperto, sarà chiuso, e quante volte è forte la voglia di andare ad accertare, se veramente è aperto il rubinetto dell'acqua, è chiuso, come sta? questo è molto molto forte, e allora bisogna imparare, diciamo, se vuoi accertare, devi imparare a capire, appunto, questo ex, se è, cioè l'ex, vuole assolutamente capire se tu l'hai amato, non l'hai amato, perché ti comporti in questo modo, se magari hai trovato un altro, sembra strano, ma accade questo, è per completare il tuo piano d'azione, è necessario lavorare su te stessa, per, diciamo, completare un percorso di crescita personale, e anche un percorso di amore per te stessa, quindi iniziare a concentrarti su te stessa, iniziare a concentrarti sulle cose che ti piacciono, iniziare a concentrarti su ciò che è veramente buono e giusto per te, su ciò che è veramente importante per te, fottendotene completamente di quelli che sono le opinioni di chi ti dice, eh no, ma cercalo qua, cercalo là, perché se tu inizi a cercare, otterrai esattamente il risultato che non vuoi ottenere, quello di allontanare, questo è un'altra cosa da tenere presente. Bene, se questo video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare, diciamo, con gli abbonamenti base alle live, oltre che dare un sostegno al canale, e con l'abbonamento seminario online, puoi partecipare ai miei seminari online che faccio mensilmente. Ciao a tutti. Ciao a tutti.